Tu che ti sei sputtanato la soglia... Ah, successone sto film! Campione di incassi! Ciò! Pensi che starei con sta merda accesa per tutto il film? O avrò un po' di tregua dall'inquinamento acustico? Che fare! Che fare! Zitto che comincia il film! Siamo in democrazia comunque! Se non la pianti con quel pluribolti taglio e mignolini col tronchese! Scusate, posso unirmi a voi? Veramente, noi non la conosciamo! Sarebbe meglio fare un po' di amicizia prima! No, intendo dire posso scaldarmi al fuoco! In tal caso venga qui con noi! Grazie molte! Le offriamo un po' di questa grappetta moldava! Fa 96 gradi! In Bielorussia è proibita per dire! Beh, non speravo tanto! Beva! Beva che abbiamo scaldato anche un po' di cibo scaduto! E lei cena con noi! E com'è che ci trova qua a frequentare il lastrico? Se non la pianti con quel pluribolt chiamo quelli di Forza Nuova! No, scusi, ma scoppiete il pluribolt per avere l'idea della legna da camino e dimenticare che stiamo bruciando copertoni! Bisogna capirlo, buo areto! Beh, io vivevo nella bambagia, avevo un Samsung, ero qualcuno! L'illuminazione è arrivata un giorno, mentre sbrigavo una questione burocratica! Da morti i cani! Che razza di fulminata psicodelica! Tanta roba! Buonasera, oggi che avemo ospite nei nostri studi Natalino Balasso, il vipino del teatro noto per essere stato noto. Signor Balasso, volevamo da lei un'anticipazione, sapere cosa che bolle nella pignata, quali che sono i suoi sogni nel canestro per l'anno prossimo. Scusate! Artisti, si drogano! Scusate, dove eravamo rimasti? Sì, volevamo sapere cosa che faceva l'anno prossimo. Se io sapevo cosa facevo l'anno prossimo, mi chiamavo Nostradamus, ma è così difficile parlare del presente! Grazie, e come giudica il dibattito sui vaccini? Acceso! Grazie, se lei doveva buttare giù dalla torre Barbara D'Urso, oppure Bruno Vespa, oppure buttare giù proprio la torre definitivamente, e chi che faresse sfracce l'area al suolo? Ma perché devo buttare la gente giù dalle torre? Ma che domande sono? Mi chieda quale trasmissione preferivo e le rispondo che vorresti che esploda il televisore. Grazie, se lei si guarda indietro, nella sua carriera di guitto col furgone, in dove pensa che ga sbagliato? Ho sbagliato a venire qua, adesso le spiego perché la sua è una trasmissione di merda. Lei non si è mai chiesto cosa voglio? E allora chiediamocelo, cosa che vuole Balasso? No, sto parlando di quello che vuole lei, cosa desidera? Da piccolo lei voleva un telefono, una pistola, un gioco, ma non si chiedeva perché voleva quello e non altro. Ero piccolo. E tu? Tu, che te ne stai col tuo culone su quel paradiso dell'acaro che è il tuo divano, a farti le canne convinto che è una tua scelta, ti sei mai domandato perché vuoi quello che vuoi? Fumo proprio per non domandarmelo? Amico, mica hanno dato il sfrato, quindi te ne devi andare! Ma io non ce l'ho mica una casa! E perché io? Ormai il tarlo della problematica del desiderio mi aveva già scominciato a scavare nel mio cervello, già provato dal doping. Sotto il cielo, sotto il cielo, sotto il cielo, di Rovigo, di... Ecco qua, non hanno ancora svuotato il bidone, e questa sarebbe civiltà, meno male che c'è spazio qua per terra, questa la tengo per rispetto della natura, casomai la brucio in giardino! Sotto il cielo, sotto il cielo, di Rovigo, di Rovigo! Oh, finalmente libero! Non ne potevo più, deve star chiuso dentro quell'app del cazzo! E te? Chi sei? Come chi sono? Sono uscito dall'app Lampada, quindi sono il gen... Il genero? Il geni? Il genitale! Mi sa che mi hai dato del coglione, io sono il genio della Lampada, sono chiuso da 500 anni dentro l'applicazione, non sapevo come uscirne! Allora, non sei mica tanto un genio? Ascolta, re dell'outfit, io sono obbligato a servirti per una questione di tasse che non sto a spiegarti, ma se non eri il mio padrone, a quest'ora ti avevo rivoltato lo scroto come un budello da salame! Cioè, in questo film neanche i geni sanno il congiuntivo! Non credo che sono obbligati a saperlo comunque! E come mi servirai? Tu esprimi un desiderio e io lo realizzo! Lo fanno anche le televendite? Mettimi alla prova! D'accordo, allora voglio scopare una femmina seduta stante fra 5 secondi! Beh, non è la stessa cosa, ma direi che funziona! Io esaudirò solo 3 desideri per te e il primo te lo sei già sputtanato! Esaudito il terzo potrò andarmene libero! Ora dimmi, qual è il tuo secondo desiderio? Voglio una bacchetta magica! Aspetta, non so se è possibile, aspetta che controllo! Ah, sei in connessione col soprannaturale? No, con Salvatore Aranzulla! Si può fare! Pare che non ci siano impedimenti! Vabbè, bacchetta, vestimi come si deve! Beh, che ci azzecasse anche con le misure mi sembra pretendere troppo! Ciao Veccio, io mi butto sull'edonismo sfegatato! No, non te ne puoi andare! Devi esprimere il terzo desiderio, se no io non sarò libero! Il terzo me lo conservo, magari puoi tornarmi utile! Per il momento i desideri me li realizza la bacchetta magica! Dai, torna dentro l'app che chiudo il telefono che si consuma batteria! E adesso chi è il genio, eh? E così, potevi esaudire tutti i tuoi desideri, non so, farti un tatuaggio, comprare un stracchino, vivere nel lusso, insomma! Il lusso è solo un pezzetto di formaggio in fondo alla trappola per topi! È un campionario per coglioni, convinti che il loro giubbottino di merda, nel momento in cui costa 12.000 euro, smette di essere un giubbottino di merda! Le cose, in sé, non hanno valore! Non è che ti senti fortunato quando hai qualcosa! Ti senti fortunato quando hai qualcosa che gli altri non possono avere! Un accendino d'oro non ti salva dal cancro e cagare in un cesso firmato non fa della tua merda un capolavoro! Avere un telefono portatile oggi non ti rende diverso dagli altri! Negli anni 40 era un privilegio, ma solo perché gli altri non ce l'avevano! Non esistono privilegi assoluti! Fra mille anni tutti andranno sulla luna e non ci troveranno niente di straordinario! Eppure anche fra mille anni ci sarà gente convinta di avere bisogno di più comodità e convinta che gli altri non se lo meritino! Però puoi sempre prenderti qualche rivincita! Eh sì! Il fatto è che più che desiderare il tuo bene finissi per desiderare il male degli altri! E non rompa le palle ai nostri artigiani! Bacchetta magica! Voglio che Salvini dica solo delle immani cazzate! Questo paese... Ci sono molti leghisti che non sanno di esserlo! Ah boh? Parla come prima! È evidente! Allora ho pensato che per essere felici bisogna avere pensieri basic, essere razzisti, maschilisti, magari era divertente! E così mi sono messo a fare il maccio come quel personaggio scritto da Luigi Meneghello, un taciturno avventore d'osteria che sollecitato a dire la sua sulle donne rispondeva... Le donne, Dio can gusarle! E quante donne hai avuto? Più di totti! Eh ma quando sono tante poi ti accorgi che sono un po' tutte uguali e allora ti annoi e in più c'è la rottura di coioni di andare in moto! Eh la moto! Fa molto maccio! È un luogo comune che non capisco, perché diciamolo pure, se ti piace avere un affare grosso che ti vibra in mezzo alle gambe, un po' culattone e lo sei! Ma non puoi dirmi che coi soldi non si sta bene! Si sta bene coi soldi e si sta bene senza soldi, la verità è che non ti serve a niente realizzare i tuoi desideri se non sei capace di desiderare! Eccomi ai tuoi ordini padrone, esprimi l'ultimo desiderio e io sarò libero di andarmene! Non si è mai liberi per sempre, la libertà è un passaggio, non è uno status! Ascolta Fusaro, esprimi sto desiderio e finiamo sta farsa! Voglio che mi liberi dal desiderio! Non capisco! Come ultimo desiderio non vuoi desiderare più! Esatto! Contento te, contenti tutti! Io ti saluto e vado a Asiago! E così, eccomi qua! E adesso, come stai? Di merda! Esattamente come prima, anche alla miseria ci si abitua! Ma io non mi ci abituerò mai! E neanche ai reumatismi! Ma la salute, i viaggi, la maternità! È così sbagliato avere dei desideri! Io non posso saperlo, io non desidero più niente! Allora, grazie per la cena! Arrivederci! Quello là è suonato! Io, se potessi esprimere un desiderio, vorrei che tu morissi soffocato sotto la montagna dei pluriball! Ma tu, non dovevi andare a Asiago! La noia mi ha avviluppato come nebbia a Rovigo! Chissà se andavi a Rovigo come ti avviluppava! Guarda là! Siamo una società borghese, dove i borghesi si vestono come i cantanti rock, e i cantanti rock si vestono da straccioni e fanno investimenti in banca, come qualsiasi fottuto imprenditore con le telecamere in giardino! Dicono che è sparita la classe media, ma è vero il contrario? La classe media ha inglobato le altre! E Amazon è il suo catalogo! E quando a Natale ti regalano un trapano, non fai neanche finta di trovarti in una dark comedy! Abbiamo portato i bambini sull'orlo del baratro e adesso la cosa che desiderano di più è un dannato telefono! E poi c'è l'invidia dell'aristocrazia! I ragazzini picchiano i professori come dei cazzo di principini arroganti! La gente ama Gomorra, non capisce la lingua, ma la violenza la eccita! La gente sa rabbia coi profughi che vogliono il wifi, come se il fottuto wifi fosse un cazzo di privilegio! Ho lavorato tutta la vita e finalmente ho conquistato il wifi! Il wifi per leggere il giornale .it! Un grosso passo avanti per l'umanità! E giù di Whatsapp per riempirsi di insulsi trillini e interrompere una conversazione con un amico in pizzeria per guardare la foto di un cane che caga! E' stato faticoso, ma ci siamo arrivati! Al wifi! Siamo una razza superiore e grazie alla nostra immaginazione che oltrepassiamo i limiti! Spesso chi ha qualcosa da venderci è in grado di farci credere che quel qualcosa sia necessario per la pienezza della nostra esistenza. Guy Debord scriveva Lo spettatore più contempla meno vive, più accetta di riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno, meno comprende la propria esistenza e il proprio desiderio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!